Alla Salus operano professionisti italiani esperti nella lotta ai tumori. Cattuna Salus pazienti eseguono e scendono per il mondo. Alla Salus lavoriamo tutti in squadra. Parliamo dei nostri pazienti, ci confrontiamo, decidiamo e poi agiamo. Da noi non sarete mai soli. Alla Salus lottiamo per la vostra salute. Salus, spitali ut.